Un saluto dal Tg della Mobilità. Sabato 9 gennaio si svolgeranno lavori di potatura in via Barlette e via la Regina Margherita per l'intero servizio, modifiche e percorsi delle linee tram 3 e 19. I tram della linea 3 provenienti dalla stazione Trastevere e della 19 provenienti da Piazza dei Gerani limiteranno le corse a Piazza di Porta Maggiore da dove inizieranno corsa per il ritorno. Lungo i tratti non serviti dai tram saranno istituiti servizi a navetta bus sostitutivi, soppresse le fermate di Piazza Torvalsen, Viale Rossini e Piazzale Labicano. E sino al 30 marzo lavori in via Giuseppe Fiorelli, sarà deviata la linea 011, soppresse 4 fermate, 2 in via Fiorelli e 2 in via del collettore primario. E tutto appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.